salve buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi andremo a realizzare il tutorial di questo ciondolo allora questo ciondolo è veramente ma veramente bello però questo ciondolo adesso poi vedremo dovrò inserire anche questo rivoli o qui o qui faremo anche un'altra diciamo piccola creazione poi vediamo come si svolge il lavoro questo lo faremo insieme e allora questo questo ciondolo io l'ho realizzato con le ecco qui le mobi duo allora tutto il materiale che io ho qui io l'ho preso da monica monica del brocco e negozio si chiama perlissima quindi i colori che adesso io vi elencherò potete trovarli tranquillamente da monica però ci tengo a precisare che per ciò che riguarda le gem duo questo colore e questi cipollotti io li presi tempo fa però per tutto il resto potete trovarlo tranquillamente da monica monica del brocco e il negozio si chiama perlissima quindi adesso io vi spiego il ciondolo allora questo ciondolo come vi ho detto si legge veramente ma veramente bene eccolo questo è il dietro e questo è davanti poi come vi ho detto dovrò inserire anche questo o lo inserisco qui faremo anche un altro diciamo non lo so come poi si andrà a svolgere il lavoro perché ne avevo solo uno di questo rivoli così piccolino poi ho detto non so come fare dovrei sfilarlo rifarlo dico quindi facciamolo insieme poi occorrono diciamo non occorrono tanti materiali e poi vi andrò ad elencarvi materiali eccolo qui ed è veramente ma veramente bello quindi i materiali sono adesso io vi linko occorrono un rivoli anzi occorrono due rivoli esattamente questo è rivoli da 14 mm e questo è il rivoli da 8 mm quindi serve un rivoli da 14 mm e un rivoli da 8 mm poi quindi guardate qui che goccia che meraviglia allora questa goccia è particolare perché vedete aspetta vediamo un attimo ok allora questa goccia ha il il cappio e praticamente voi potete inserirla tranquillamente è molto bella e a me piace molto poi servono allora eccole qui le mobi duo questo è il colore che io sto utilizzando è un colore molto bello poi per la prima volta io sto utilizzando le to non le ho mai utilizzate le to allora queste sono le 11 0 questo colore è meraviglioso è stupendo purtroppo dal cellulare non riesco a far vedere bene diciamo la bellezza di queste perline però sono stupende queste sono le 11 e queste sono le 15 sempre della to quindi voi per realizzare questo ciondolo dovete ok dovete usare le to poi occorrono questi cipollotti che sono veramente ma veramente belli poi occorrono le iris duo eccole qui questo è il colore questo è il colore che è bianco poi servono eccole qui le perle da 3 mm e sto usando queste qui color bianco poi 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 serve serve allora come vi ho detto queste le ho presi tempo fa queste sono le gem duo e queste sono i cipollotti 6x4 questi sono i 3x4 poi io sto utilizzando un ago della miuki e un filo di nylon 1 016 quindi allora come vi ho detto tutto il materiale che vi occorre questi colori li potete trovare da monica e quindi monica del brocco e quindi io ok il negozio si chiama perlissima e potete trovare lì e io direi di partire subito con il tutorial quindi per prima cosa dovete inserire ottici 8 cipollotti 3x4 e 8 rocaie 11 0 della toho allora sarò molto veloce nel fare questa incastonatura perché io l'ho fatta diverse volte quindi dopo che noi abbiamo inserito le rocaie e i cipollotti 3x4 dobbiamo inserire 5 rocaie 11 0 della toho quindi usciamo da questa perlina e dobbiamo rientrare in quella successiva questo noi lo dobbiamo fare per tutto il giro dovete formare degli archetti da 5 e poi ci vediamo dopo quindi io sto terminando il mio giro ho formato degli archetti da 5 sopra i cipollotti adesso e non si vede cosa è successo ok adesso io devo risalire fino alla terza rocaie 11 0 sempre della toho eccola qui quella diciamo di punta poi devo inserire altre 5 rocaie 11 0 inserisco altri 5 rocaie 11 0 ok a questo punto ne ho inserita una di più allora eccoli qui ok sono 5 si esco dalla punta e rientro sempre in quella centrale sempre qui nella punta quindi noi dobbiamo inserire altre 5 rocaie 11 0 per tutto il giro e poi ci vediamo dopo a questo punto io sto terminando il mio giro poi devo risalire sempre nella terza rocaie 11 0 della toho eccola qui eccola qui a questo punto io devo inserire due rocaie 11 0 esco dalla punta e rientro in quella nella terza rocaie 11 0 sempre in quella centrale quindi devo inserire soltanto due rocaie quando noi abbiamo fatto questo lavoro per tutto il giro dobbiamo prendere il nostro rivoli metterlo a testa in giù e dobbiamo stringere e ripassare più volte così abbiamo fatto l'incastonatura e poi ci vediamo dopo poi dopo che abbiamo fatto l'incastonatura allora abbiamo fatto un primo archetto da 5 un secondo archetto da 5 e qui ho inserito due rocaie 11 0 ho ripassato più e più volte e ho fatto l'incastonatura allora noi ci dobbiamo portare ad uscire dalla rocaie 11 0 quella dell'incrocio allora eccola qui questa quindi poi dobbiamo inserire questa è la sequenza allora una una mobi duo allora questa una mobi duo una gem duo no no iris duo scusate allora dobbiamo inserire una mobi duo una iris duo e una mobi duo allora dobbiamo inserire la parte di sopra deve essere quella rialzata anche qui la iris e anche la la mobi duo poi dobbiamo ecco qui questa è la sequenza uscire da questa rocaie e rientrare in quella successiva dell'incrocio è semplice semplice questa prima parte ok ok allora ecco qui adesso vi spiego allora come vi ho detto la parte rialzata va davanti e la parte quella liscia va dietro quindi noi usciamo dalla rocaie 11.0 questa qui dell'incrocio dobbiamo inserire questa sequenza e dobbiamo inserirci in quella successiva quindi noi dobbiamo fare così per tutto il giro e poi ci vediamo dopo adesso io sto terminando il mio giro questo è il davanti e questo è il dietro quindi io lavoro nella parte del dietro perché mi trovo più comoda quindi come faccio sempre io mi porto avanti con il lavoro per sicurezza quindi vado avanti passo nella parte bassa della mobiduo nella parte bassa della iris duo ecco qui poi ripasso allora ripasso e esco dalla rocaille 11.0 questa dell'incrocio eccola qui quindi mi sono portata un po' avanti con il lavoro c'è qualcosa che non va in questo altro comunque ok e tiro allora eccolo qui adesso cosa faccio io esco da qui dalla rocaille e risalgo sopra la mobiduo se ci riesco sì quindi a questo punto io devo inserire 3 rocaille 11.0 allora controllo un attimo no ne sono due allora sì ok devo inserire due rocaille 11.0 entro nella punta della iris poi devo inserire altre due rocaille 11.0 e questa volta io passo sia nella punta della mobiduo che in quella successiva praticamente io le unisco queste due mobiduo semplicemente con il filo ecco qui ok quindi è molto semplice questo passaggio quindi altre due e mi vado inserire nella punta della iris poi altre due e mi vado a inserire in entrambe le mobiduo ecco qui questo lavoro voi ok ok questo lavoro voi lo dovete fare per tutto il giro e poi ci vediamo dopo a questo punto noi dobbiamo inserire tre rocaille 11.0 quindi usciamo da qui e inseriamo tre rocaille e dobbiamo uscire vedete qui ce ne sono due al centro ecco qui vediamo se si vede allora faccio piano piano non si vede se si si vede ok dobbiamo uscire al centro tra queste due rocaille qui ok adesso ok cosa dobbiamo fare dobbiamo inserire una perla da tre millimetri allora voi questo lavoro lo dovete fare magari sul piano da lavoro perché vi trovate meglio quindi dobbiamo inserire una perla poi dobbiamo prendere una gem duo in questo modo noi praticamente stiamo facendo questo lavoro quindi abbiamo inserito una perla da tre millimetri e una gem ecco qui ok poi dobbiamo inserire questa è la sequenza una 15 0 una mobi duo poi una iris un'altra mobi duo e una 15 0 allora ecco qui adesso vi faccio vedere la sequenza una 15 0 una mobi duo una iris una mobi duo e una 15 0 portiamo tutto giù e dobbiamo rientrare nella punta e passare entrambi fuori della della nostra gem duo e poi dobbiamo allora ecco qui allora come vi ho detto in questa al centro allora io vi consiglio ecco qui di farlo diciamo sul piano appoggiato di appoggiarci sul piano di lavoro poi dobbiamo inserire altre tre rocai 11 0 e dobbiamo sempre riuscire in questa qui che si trova al centro ecco qui dobbiamo sempre riuscire qui ok e poi dobbiamo fare la stessa cosa dobbiamo inserire una perla dobbiamo dobbiamo rinserire la nostra gem duo una 15 una mobile duo una iris una mobile 2 una iris e dobbiamo rinserirci nella nella gem e dobbiamo rinserire la perla quindi noi dobbiamo inserirci sempre qui in questo punto qui tra le due ecco tra le due 11 0 quindi fate così e poi ci vediamo dopo a questo punto il lavoro ecco come vi deve venire allora noi dobbiamo uscire eccoci dopo ci dobbiamo portare ad uscire da questa rocaille l'archetto che noi abbiamo fatto da 3 questa qui ok allora usciamo da questa rocaille 11 0 dobbiamo inserire questa è la sequenza allora una 11 0 una perla da da 3 mm e una 11 quindi usciamo da qui e dobbiamo inserirci nella 15 0 e dobbiamo ripassare io giro un attimo per comodità allora è successo adesso no si è impicciato tutto il filo perché è lunghissimo allora dobbiamo inserirci in questa 15 ok ripassare nella mobi 2 ripassare nella iris ripassare dobbiamo ripassare nella mobi 2 e dobbiamo portarci ad uscire dalla 15 0 allora vediamo 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 ecco qui ci abbiamo fatta quindi praticamente io che cosa ho fatto sono uscita da questa rocai 11 0 questa qui centrale ho inserito una 11 0 una perla da qua da 3 millimetri e una 11 0 poi sono rientrata nella 15 sono rientrata in tutte queste nelle mobi e nella iris e sono riuscita da questa 15 quindi dobbiamo fare la stessa cosa dobbiamo inserire una 11 0 una perla da 3 millimetri e una 11 0 ecco qui e dobbiamo inserirci in questa sempre in quella centrale ok questo è tutto il lavoro che dovete fare quindi vi faccio vedere un altro passaggio una 11 0 una perla da 3 millimetri e una 11 0 ecco qui e dobbiamo sempre io giro sempre per comodità ripassare ok fino ad uscire dalla 15 0 quindi questo è tutto il lavoro che dovete fare ecco qui allora a posto quindi voi dovete fare tutto il lavoro questo giro in questo modo fate così e poi ci vediamo dopo a questo punto io sto terminando il mio giro ecco qui comunque non vi preoccupate se queste puntine per il momento non si reggono poi si sistema tutto il lavoro quindi io adesso devo risalire allora ecco qui ok e siamo risaliti allora adesso io controllo un attimo esatto a questo punto io mi trovo qui nella parte bassa dell'iris duo ecco qui cosa faccio devo inserire 2 15 0 e vado e mi porto nella parte alta della mobiduo ok quindi adesso devo prendere una 11 0 ecco 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 le qui ecco le qui vediamo vediamo stiamo a buon punto è ecco le qui ecco le qui io allora devo prendere una 11 0 un cipollotto 6x4 e una 11 allora questa è la sequenza questa è la sequenza una 11 0 un cipollotto 6x4 e una 11 0 quindi esco dalla punta della mobiduo e mi vado a inserire in quella successiva eccola qui poi devo inserire altri 2 15 0 oh mamma che ho fatto non si vedono comunque queste sono 2 15 0 e io mi vado a inserire nella parte bassa della iris 2 ok va benissimo è perfetto poi inserisco altre 2 15 0 e mi vado a inserire nella punta alta della della mobiduo e non trovo il filo eccolo qui e tiriamo quindi quindi allora adesso vi spiego noi dobbiamo inserire allora dobbiamo uscire ok adesso si vede dobbiamo uscire dalla parte bassa della della iris 2 inseriamo 2 15 0 poi dobbiamo inserirci nella punta della mobiduo dobbiamo inserire una 11 0 un cipollotto 6x4 e una 11 0 dobbiamo inserirci di nuovo nella mobiduo dobbiamo inserire altre due rocaille 15 0 dobbiamo inserirci nella punta bassa nella parte bassa della iris 2 e dobbiamo continuare così per tutto il giro fate così e poi ci vediamo dopo quindi dopo che abbiamo fatto questo lavoro io ho fatto una piccola modifica allora vedete viene bombato ecco viene molto curvo perché è bellissimo anche se viene bombato è bellissimo io ho deciso di cambiare e dovete seguire questo tutorial si regge benissimo eccolo qui quindi è normale se questo ciondolo vi viene proprio curvo eccolo qui bello così bello bombato però si regge benissimo perché io ho fatto questa piccola modifica guardate qui è bellissimo allora facendo queste vi praticamente sì è vero resta più dritto piatto come devo dire però non si vede la bellezza diciamo del ciondolo non mi piace mentre in questo modo il ciondolo eccolo qui togliendo queste vi resta più non lo so più aperto si vedono questi fiorellini quindi voi dovete seguire il mio tutorial se viene come vi ho detto così curvo bombato non succede niente il il ciondolo dovete seguire questo poi se occorre fate un giro di rinforzo e si vedono proprio questi fiorellini mentre qui rimane molto molto chiuso cioè non si vede la bellezza qui adesso noi eccolo qui adesso noi dovremmo fare qualche cosa non so se lo dobbiamo inserire sopra o sotto comunque allora adesso io vi spiego innanzitutto qui ho inserito uno due tre quattro cinque sei ho inserito sei perle da tre millimetri e sei rocaille quindici zero scusate qui ho fatto la classica gabbietta che io faccio sempre però l'ho fatta con le quindici zero quindi ho fatto un archetto da cinque un archetto da cinque tutto il giro poi ho fatto un altro archetto da cinque sempre con le quindici e qui ho inserito due quindici zero non si vede ok allora qui ho inserito due quindici zero due qui ho fatto un archetto e un altro archetto con le quindici zero e qui ho messo le perle da da tre millimetri quindi dovete seguire questa incastonatura e poi continuiamo dopo quindi dopo che abbiamo fatto l'incastonatura è molto semplice allora noi dobbiamo uscire dalla rocai quindici zero questa qui centrale dobbiamo prendere un cipollotto solo un cipollotto e dobbiamo inserire un cipollotto e dobbiamo rientrare nella rocai successiva adesso vi faccio un passaggio quindi io esco dalla rocai quindici zero e mi vado a inserire in quella successiva quindi il giro che voi dovete fare questo prendere un cipollotto e dobbiamo entrare ecco qui eccola qui in questo spazietto poi cosa facciamo a questo punto prendiamo una undici zero e mi vado a inserire il cipollotto prendo un'altra undici zero e mi vado a inserire nella quindici zero non è niente di che è un qualche cosa di molto piccolo perché purtroppo il ciondolo è già grande quindi quindi non mi sembra il caso di farlo diventare ancora più grande allora ma io non vi sto facendo vedere niente però perché si vede tutto sfocato comunque adesso vi spiego ecco qua io prendo una undici zero e entro nella rocaille quindici zero questa dell'incrocio ok poi prendo un'altra undici zero e mi vado ad inserire in questa rocaille ecco qui altrimenti mi sembra troppo appisantire eccola qualche cosina di carino appisantire un po' troppo il ciondolo ok ed ecco qui abbiamo fatto il giro ok adesso salgo sopra passo nella undici zero nel cipollotto che è successo ecco qui passo nella undici zero nel cipollotto e nella undici e inserisco semplicemente una undici zero ecco qui vado a creare qualche cosina di così piccolino quindi fate così per tutto il giro e poi ci vediamo dopo mettiamo qui sopra eh sì mettiamo qui sopra dai poi ci vediamo dopo a questo punto dopo che abbiamo fatto questo questo lavoro noi dobbiamo portarci ad uscire da un cipollotto un 3x4 dobbiamo prendere tre rocai undici zero quindi dobbiamo inserirci nella punta della della iris duo ecco qui poi dobbiamo inserire altre tre rocai undici zero ok e dobbiamo inserirci in quest'altro cipollotto perché è un po' strettino ecco perché e diventa un po' complicato ci riusciamo? ok forse ce l'abbiamo fatta ok ok quindi noi adesso dobbiamo arrivare fino qui alla terza no quella centrale per fare il cappio e poi ci vediamo dopo adesso io devo inserire la goccia allora inserisco 5 rocai undici zero poi inserisco la goccia eccola qui e inserisco ok altre 5 rocai undici zero 3 4 4 e 5 4 e 5 ecco qui ecco qui allora io sono uscita dalla punta della mobiduo e rientro nella punta dell'altra mobiduo questo è venere quella che sentite ai cucciolotti sta chiamando i cucciolotti allora qui ho fatto un casino eh sì solitamente faccio sempre ok allora vediamo un attimo oh si è tutto impicciato 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 non si deve fare ok ecco qui allora questo spazio che si è creato qui a me non piace quindi io risalgo sopra fino qui perché devo coprire questo spazio che a me non piace e poi ci vediamo dopo quindi dopo che abbiamo inserito la goccia io sono risalita sopra nella punta della mobiduo ho inserito due rocai 11.0 e mi vado a inserire in queste tre che io ho inserito precedentemente ecco qui oh no si è impicciato un'altra volta mannaccia ecco qui ecco qui già facciamo allora sì penso di sì che ce l'ho fatta ecco qui vedete questi spazi che comunque si creano questi vuoti noi li andiamo a togliere vediamo vediamo se riesco a passare eh sì dobbiamo passare per forza ecco qui poi ripasso ecco qui poi ripassiamo allora allora poi scendiamo giù ecco qui sono lavori un po' di precisione però poi vengono veramente belli inseriamo altri due rocai 11 0 e mi vado ad inserire nella punta della mobiduo e il ciondolo è finito è durato tantissimo però è stupendo è meraviglioso adesso io devo fare soltanto dei notini ok allora il tutorial è durato abbastanza però è venuto veramente veramente bello io vi devo ringraziare perché ho visto tante delle mie creazioni che l'avete riprodotte e quindi adesso io per adesso vi saluto e vi ringrazio e ciao e a presto